In una nota diffusa dall'ASP, firmata da Paola Marcella Santino, direttore generale facente funzioni, si legge che in occasione delle elezioni politiche di domenica 4 marzo, tutti i presidi sanitari di questa azienda resteranno aperti al pubblico nei tre giorni precedenti la tornata elettorale, secondo il normale orario di apertura, e nella giornata di domenica a 4 marzo, dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 alle 20, in merito al diritto di voto dell'elettore fisicamente impedito a esercitarlo autonomamente. Dall'ASP ricordano che gli elettori che vogliono esercitare il diritto al voto domiciliare devono far pervenire tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante alla volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, allegando idonea certificazione sanitaria rilasciata da un dirigente medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria provinciale.